Oh, c'è la scena di lì, vedi, 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 che fai lì Allora, questo è il gioco Eh, se è ralzato, lo fatti lì, insomma Vabbè, la foto è così da farglia, perché non ho capito, la fai lì Aspetta, qui vada, facciamo il vento, eh Di male, vada, vada Vada, 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 vada Ma guarda, aspetta, devo farti dire una cosa, eh Una mano, ma no Visto? Sì, sì Non mi sembra di fare una bella foto, perché... Vabbè, lì non si veniva niente No, non mi era andata in finita Non mi era andata in finita, ma... Aspetta, aspetta, aspetta Uh, adesso esce dall'altra parte Stanno, non mi sono andata in finita Non mi sembra di fare una tappa Non mi sembra di fare una pappa Diciamo in finita No, 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 no. No, 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 no.